Buongiorno, buona domenica amici carissimi, oggi è il 14 maggio della sesta domenica di Pasqua e buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno Tiziano, buona domenica a tutti. Allora, adesso andiamo alla lettura del Vangelo, io credo Don Salvatore oggi pomeriggio ci sia un'ordinazione sacerdotale. Sì, esattamente, oggi a Monte Sant'Angelo alle ore 16 sarà ordinato presbitero Don Emanuele Granatiero, che in questo momento sta svolgendo il suo servizio pastorale come diacono nella Chiesa Sagra Famiglia di Manfredonia. Ok, allora gli facciamo tanti auguri per questo suo nuovo percorso. Ok, allora il Vangelo di quest'oggi è tratto sempre da San Giovanni, il capitolo 14, versetti 15-21. Dal Vangelo secondo Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un po' quel mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Bene, in questa domenica molto bella, la sesta del tempo di Pasqua, Gesù arriva al cuore della confidenza, di questo dialogo con i suoi discepoli. Dove non solo chiede la fiducia in lui, quindi questa fede, come abbiamo visto domenica scorsa, ma chiede proprio l'amore. Cioè, se il nostro rapporto sarà di vero amore, amore significa capacità di donarsi gratuitamente gli uni per gli altri, questa agape proprio profonda. Osserverete i miei comandamenti, cioè lì dove il rapporto è d'amore, quanto io vi chiedo, lo farete? Lo farete senza difficoltà, non che non costerà comunque tanto l'impegno, il sacrificio, assolutamente, ma lo farete col cuore pieno di gioia, perché chi ama fa tutto, non si ferma di fronte a niente. E dice lui, e io pregherò per voi, e il Padre vi manderà un altro paraclito. Un altro paraclito vuol dire lo Spirito Santo, paracaleo in greco è colui che fa da avvocato, colui che si mette al tuo fianco, che garantisce per te, colui che ti accompagna, no? E quindi dice Gesù, io non ci sarò, tra virgolette, ma ci sarà il dono dello Spirito con voi, ad accompagnarvi e a farvi stare sempre dentro questo amore che tra me e il Padre noi ci scambiamo, perché come diceva Agostino, lo Spirito Santo non è altro che l'amore che il Padre dona al figlio. E quindi entrare in questo amore significa entrare in questa relazione profonda, un po' come quando una persona che noi amiamo entra a far parte della nostra famiglia, no? Ecco cosa vuol dire, essere amati da Gesù e amare Gesù significa entrare a far parte della Trinità. E quindi avvertire questo amore, avvertire questa forza, e cominciare a vedere quello che chi sta fuori da questa relazione non potrà mai vedere. Ecco perché il mondo che nel Vangelo di Giovanni intende, come in questo caso, ciò che è contrario allo Spirito, ciò che non si mette in questo amore, ciò che rimane estraneo è a quest'amore, e chi rimane estraneo è a quest'amore, non può percepire questo amore, e né diventa capace di accogliere, di cogliere quello che quest'amore permette di vedere. Ecco perché dice Gesù, il mondo non vede, non riconosce lo Spirito Santo, così come non vede, non riconosce me, non vede in me il Padre, non vede nelle mie opere le opere del Padre, e non vede nei miei gesti l'amore del Padre per ciascuno. E quindi dice Gesù, soltanto amando me, e quindi vivendo quello che io vi chiedo, quindi mettendo in pratica quello che vi chiedo, entrerete dentro questo gioco d'amore che è la Trinità. E questo vi permetterà di guardare alla vita, al mondo, in maniera molto diversa, un po' come immaginiamo stia accadendo a Don Emanuele, che oggi pomeriggio sarà ordinato presbitero, che sicuramente, dando tanta fiducia a Gesù, provando ad amarlo, a dargli la sua risposta d'amore, sicuramente sta imparando a guardare il mondo con gli occhi stessi di Gesù, e quindi a vedere della propria vita e della vita degli altri un dono gratuito da fare e da accogliere. Proprio su questo Spirito Santo volevo chiederti, perché sono anche un po' i commenti che ho sempre sentito in giro, però anche io qualche volta ho pensato a questa cosa qui. Spesso nei Vangeli, sì, c'è qualche passo dove parla chiaramente della presenza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, però spesso parla appunto Gesù riferendosi solo al Padre, il Padre, il Figlio, io, il Padre, eccetera, eccetera, come dire, lo Spirito Santo c'è, però insomma non ve ne parlo. E qui in questo testo c'è il Padre, c'è il Padre, è Lui. Quando Lui esce di scena entra lo Spirito Santo, sembra quasi un cambio di staffetta. Perché non è mai chiaro su questa cosa qui? O comunque non è sempre chiaro su questa trinità? Beh, insomma non possiamo rimproverare a Gesù di non essere chiaro, anche perché non so se è Lui che non è chiaro, siamo noi incapaci magari di comprendere appieno una dinamica, che è una dinamica fortemente relazionale, quindi non c'è molto da spiegare, o non ci sono ruoli ben distinti per cui entra in scena uno, esce di scena l'altro. Sta di fatto che però coincide, i discorsi sullo Spirito appaiono, tra virgolette, in maniera molto più netta, più abbondante, quando Gesù sta per lasciare il mondo, anche quando Gesù ad esempio appare appunto nell'Evangelio di Giovanni a porte chiuse, sta in mezzo a loro e poi dona lo Spirito, e con lo Spirito dona anche il mandato. Sta di fatto che la manifestazione della discesa dello Spirito, secondo l'Evangelista Giovanni, avviene proprio sulla croce, quando Lui emana e fonde lo Spirito, ma stando l'Evangelista Luca per esempio avviene dopo che Gesù è addirittura anche asceso al Padre, quindi è proprio uscito di scena, storicamente parlando, quindi sta sicuramente, come dire, nella Trinità ognuno ha un compito, tra virgolette, preciso, così come avviene in una famiglia, tra virgolette, ma di fatto ciò che gli accomuna è proprio questa relazione profonda tra di loro. Ecco perché ricordavo che Sant'Agostino, volendo, provando a spiegare un po' la Trinità, ma lui stesso lo fa, consapevole che sta balbettando qualcosa su un mistero immenso, dice proprio questo, il Padre è l'amante, cioè colui che ama, il Figlio è l'amato, colui che viene amato, lo Spirito Santo è proprio l'amore. Ed è bello pensare che l'amore, per quanto si identifichi fortemente con i due che lo provano, lo vivono, però è comunque qualcosa di grande, di nuovo, che di fatto ci rende capaci di venire fuori, no? Per quanto sono io stesso a provare l'amore, quindi a produrlo, tra virgolette, ma in verità è qualcosa di più grande di me, che mi invade, mi pervade, e mi rende un uomo diverso, un uomo migliore, una donna diversa, una donna migliore nel caso di una donna, no? Quindi è vero che l'amore è qualcosa di profondamente legato a chi lo prova, però in verità ci accorgiamo anche che è un'esperienza, un sentimento più forte della persona stessa, non a caso quando ci si innamora si può addirittura cambiare, migliorare, no? Cioè diventare un altro, si dice, sei diventato un altro da quando ti sei innamorato, questo vuol dire che l'amore stesso è quasi personificato, tra virgolette, in questo caso è lo Spirito, lo Spirito si traduce anche con fiato, cioè è il respiro stesso di Dio l'amore, ed è il respiro che si dona a qualcuno, il respiro è una cosa che ci portiamo dentro, ma che lo possiamo anche donare, non a caso possiamo aiutare qualcuno a recuperare il suo respiro col nostro, o possiamo addirittura soffiare e gonfiare un palloncino col nostro respiro, no? Ecco per dire che l'amore è sì profondamente legato al padre e al figlio, ma al tempo stesso è anche qualcosa che esce fuori e diventa il più grande gesto di condivisione del padre e del figlio nei confronti dell'uomo e della donna che scelgono di fidarsi, di credere e di amare Dio. Va bene, allora grazie, amici come sempre, vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 10.05, con il verbo undomini, il pane della parola.